Alessio mi scrive Ciao Ale, ma non hai paura di tornare di nuovo grosso? Io mi vedo e ti vedo di nuovo grosso Ovviamente non come prima, ma basta un niente per tornare come prima Sto impazzendo, eppure mangio poco e mi alleno tanto Vediamo insieme cosa ne penso Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa mi sono sottoposto a chirurgia bariatrica Ho battuto obesità, stetosipatica, diabete, ipertensione, apne notturne e molto altro Da allora faccio questi video per aiutare altri a trovare la loro strada per guarire dall'obesità Supporta questo mio progetto Iscriviti al canale, lascia like e i tuoi commenti Ma soprattutto condividi questi video sui tuoi canali social La domanda di Alessio mi ha fatto riflettere molto La sleeve e il percorso che ho fatto insieme alla sleeve Mi ha fatto imparare tantissime cose Soprattutto su me stesso, ma anche a quello che mi circonda E a come affronto la vita di tutti i giorni Sicuramente ho scoperto un sacco di cose nuove E ho cambiato modo di pormi di fronte a difficoltà, ostacoli e a problemi Mi sento molto cresciuto Sento che non sono la stessa persona di prima Nel senso che in poco tempo ho cambiato tante cose del mio approccio E questo mi fa sentire più forte, più sicuro, più tranquillo Ma non mi fa sentire ovviamente al sicuro da problemi o da eventuali ricadute Di certo sono sicuro che oggi ho degli strumenti che prima non avevo Per poter affrontare quello che arriverà in un modo più sano, più efficace E questo secondo me fa la differenza Si legge spesso di persone che dopo anni dalla chirurgia dell'obesità Sono tornate a essere obese o comunque hanno preso tanto peso Personalmente non credo che per me sia una cosa tanto facile Perché io credo che alla fine la chiave di volta sia tenere bene in mente l'obiettivo E l'obiettivo fondamentalmente è quello di stare bene Stare bene dentro e fuori E se trovi un equilibrio fra dentro e fuori è tutto più facile Non è impossibile Ovviamente io la sto vivendo, la sto vivendo giorno per giorno come tanti di voi E come qualcuno che magari guarda questi video per vedere che cosa lo aspetterà dopo Ma sono fondamentalmente sereno, sono tranquillo, non sono preoccupato So che c'è la possibilità Non è stato l'intervento un qualcosa che mi garantisce di essere a posto per sempre Ma mi ha dato un'opportunità enorme e la sto cercando di cogliere al 100% E questo mi fa sentire sereno Essere sereno mi aiuta ad affrontare meglio le cose della vita di tutti i giorni E affrontare meglio le cose della vita di tutti i giorni Mi aiuta a non sentire il bisogno di continuare A cercare una stampella nel cibo Il cibo non è una stampella Non è la stampella di nessuno E quindi bisogna evitare di cadere in questa trappola di nuovo Si riesce Serenamente si riesce Anche nei momenti in cui sembra di affannarci Possiamo chiedere aiuto Possiamo rivolgerci di nuovo allo psicologo O se non l'abbiamo mai fatto Pensare di farlo Perché ci aiuta a mantenere la strada che noi scegliamo Per le cose che per noi sono importanti E le cose che ovviamente capitano nella vita Perché non sempre le cose vanno come si vorrebbe Anzi spesso e volentieri bisogna fare i conti Con la differenza che c'è fra quello che noi vorremmo e la realtà Perché? Perché gli attori in gioco sono tanti Che vanno dai figli, ai genitori, agli amici, ai parenti Al lavoro, alla sfiga, a qualunque cosa Quindi riuscire a trovare il modo di starci dentro Vivendo il più serenamente possibile Alla fine è la chiave di volta Un po' per tutte le problematiche Io cerco di tenere a mente l'obiettivo E l'obiettivo è quello di mangiare serenamente In modo sano Non esagerare con i paciughi Non esagerare con le cose che adesso so che non mi fanno bene Non esagerare con le dosi Anche perché a un certo punto mi rendo conto che mi stufa il cibo Cioè mangio quello di cui ho bisogno Sto bene, sono sereno Mi godo i miei pranzi, le mie cene, le mie merende senza problemi Ma se un giorno capita che mangi un po' di più Per n più 1 ragioni Arrivo il giorno dopo che dico Oh, oggi un'insalatina è buona Perché mi rendo conto Cioè il mio corpo mi dice È troppo E alla fine ho trovato un mio equilibrio Un giorno mangio un po' di più Un giorno mangio un po' di meno Ma non è un'ossessione Non è un problema Tengo d'occhio le cose Ma le tengo d'occhio non sul quotidiano Le tengo d'occhio sul lungo periodo Cerco di stare attento a non ricadere in vecchi errori Cerco di stare attento a non esagerare E soprattutto non esagerare troppo spesso Ma il giorno che capita È un giorno Fine Certo Se capita per 15 giorni Un mese O due mesi È un'altra cosa Ma se nel quotidiano Nella normalità Mangio le cose giuste E nelle dosi giuste Cioè mangio in modo che ormai per me è naturale Problemi non ce ne sono E preoccupazioni non ce ne sono altrettanto Alessio parla di mangiare poco E allenarsi tanto E di vedersi ancora grosso E secondo me sono tre concetti chiave Su cui lavorare un attimo Mangiare poco Non significa necessariamente mangiare bene Se mangio poco Perché mangio solo tiramisù Forse c'è un problema Quindi è una questione di quantità E che non è il mangiare poco Ma il mangiare giusto E di qualità E quindi è mangiare le fibre Mangiare un po' di carboidrati Mangiare le proteine Mangiare tutto quello che serve Per stare bene E quello è fondamentale Perché poi ti senti sazio Ti senti soddisfatto Senza avere introdotto nel corpo Roba eccessiva La giusta quantità E il giusto La giusta La giusta quantità E la giusta qualità Sono due fattori importantissimi Poi allenarsi tanto Beh Per carità C'è chi fa sport a livello agonistico Buon per lui Buon per te Ovviamente Fare tanto sport Significa anche Probabilmente mettere su Massa muscolare Adesso non so Che sport nello specifico fai Sicuramente per un certo tot Si brucia grassi E per un certo tot Si mettono su muscoli Il muscolo ha un peso diverso Rispetto al grasso Quindi Ti vedi Grosso O vedi che il peso Magari è aumentato Perché sono due cose differenti Anche qua È complicato per noi Ex obesi Che evidentemente Non avevamo un rapporto Corretto Con la nostra immagine E con noi stessi Sentirci E vederci Con occhi Obiettivi È complicato Alcuni ci riescono Alcuni no Alcuni così così Però Facciamo attenzione A questa cosa Vedersi grosso È capero Io non me la sento Di dire Che mi vedo grosso Mi vedo Magro Io per mesi Dopo l'intervento Mi vedevo Per come ero Solo nelle fotografie Se passava davanti A uno specchio Continuavo a percepirmi Come ero prima E quindi Come faccio a dire Mi vedo grosso O non mi vedo grosso Ma poi È così importante Vedersi grossi Vedersi non grossi È un casino ragazzi Io credo che Sia importante Essere aiutati Dall'esterno In questa fase Soprattutto se si hanno Dei timori Che ci portano Ad avere dei pensieri Che ci preoccupano Affidiamoci a qualcuno Che lo fa di mestiere Che ci fa una visita E ci dice Vai bene Dovresti dimagrire Ancora un po' Oppure Dovresti mettere su peso Perché ci sono anche Alcune persone Che Avendo questa difficoltà Nel riconoscersi Correttamente Magari pensano Di essere grossi E non lo sono assolutamente Quindi Si ha bisogno di aiuto Perché per una vita Il nostro occhio È stato ingannato E non è detto Che nel giro Di un paio d'anni Il nostro occhio Ricominci a vedere Le cose assolutamente Come sono Certo che Ci frega ancora di più Il fatto che Quando guardiamo Gli altri L'occhio Vede quello che Realmente è Ma non vede La stessa cosa Con noi stessi E questo complica Un po' Le cose Quindi Affidiamoci Ai medici Ai dietisti Affidiamoci Agli psicologi Che ci aiutano Laddove Abbiamo più bisogno Magari di altre Oppure Ci aiutano Laddove Fortunatamente Abbiamo imparato A riconoscere Che abbiamo Delle debolezze Perché tutti noi Abbiamo delle debolezze A questo mondo Alcuni in un modo Alcuni in un altro Alcuni fanno finta Di non averle E vivono una vita Non completa E qualcun altro È abbastanza maturo Da riconoscerlo Da vederlo E da fare qualcosa Per potersi aiutare A vivere al meglio Io per esempio Non mi vedo Particolarmente grosso Anche se Le due ernie Che ho Questa E quella sotto Non aiutano Perché sono enormi E a volte Fanno sembrare Alla mia pancia Ancora la pancia Di un obeso Magari non un obeso Come ero beso prima Ma fanno un certo effetto E ci sono E si vedono Tra l'altro Ho scoperto Al mare Che stanno sott'acqua Le due ernie Due laparoceli Rientrano moltissimo E ho quasi La pancia Cioè La sensazione Quella di avere La pancia Quasi completamente piatta E quindi Chissà Magari Quando riuscirò A fare l'intervento E mettere a posto Queste ernie Mi vedrò ancora In un modo diverso Magari mi vedrò Con più pelle cadente Magari Non lo so In realtà Non mi importa Non mi importa Perché Io mi sento bene Ho trovato Il mio equilibrio Non ho paura Di tornare grosso Anche se Mi tengo Controllato Cioè Faccio attenzione A cosa succede A cosa faccio A come cambio Continuo a fare Gli esami del sangue Per vedere Che vada tutto bene Continuo a fare Le mie visite Per vedere Che vada tutto bene Indipendentemente Dall'intervento Di per sé L'intervento Ormai È storia antica Io sono Una persona Rinata Nuova Anche grazie A questo intervento E è prezioso Quello che ho conquistato E devo continuare A mantenerlo Per continuare A stare bene Insomma In due parole Non mi vedo grosso Ma questo lascia il tempo Che trova Mi sento in forma Mi sento nella mia Miglior forma Sono sereno Non mi illudo Che sia tutto Al sicuro Ma sto veramente bene Se il video ti è piaciuto Lascia un like E condividilo Se trovi questo progetto utile Lasciami un super grazie O abbonati al canale Così mi sosterrai Anche finanziariamente Qua Trovate i link A altri miei video Che potrebbero interessarvi E sotto I link al canale Con i viaggi Che faccio in moto Con la Fra Ciao a tutti E al prossimo video